ehi dai non fare il pigro ricordati di iscriverti al canale e clicca la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video ciao ragazzi bentornati sul canale allora oggi andiamo insieme a vedere tutte le novità che ci riserverà il nuovo mese di aprile quindi rilascio della versione 26.1 l'aggiornamento tra l'altro dovrebbe essere già sullo store quindi potete già farlo andiamo a vedere insieme cosa ci aspetta in questo mese che sembra essere molto interessante e vediamo qualche dettaglio in più allora innanzitutto i due nuovi campioni o meglio le due nuove campionesse che verranno inserite questo mese in marvel contest of champions sono sorcerer supreme e storm piramidex allora sorcerer supreme sarà un mistico ho dato una letta veloce ad alcune anteprime sembra essere molto interessante entrambe sembrano fighissime dal punto di vista delle animazioni mentre storm piramidex sarà un mutante come la vecchia tempesta però con delle abilità decisamente diverse questo mese avrà degli eventi molto interessanti allora il primo di questi è diciamo la scelta della fazione ovvero a partire da domani quindi da dal primo aprile quando inizierà il nuovo evento si dovrà scegliere se stare nella fazione di apocalisse con storm o nella fazione con sorcerer supreme a seconda della fazione che voi sceglierete avrete durante il corso dell'evento determinati tipi di ricompense la fazione di storm si focalizzerà sulle schegge cristallo eroe mentre la fazione di source del supreme si focalizzerà su materiali per rangare quindi i catalizzatori rank up eccetera eccetera una cosa interessante è il fatto che non si è obbligati a rimanere nella stessa fazione per tutte le quattro settimane della durata dell'evento ovvero si sceglie una fazione si rimane in quella fazione almeno due settimane dopo le prime due settimane quindi il 15 aprile si può scegliere se rimanere nella stessa fazione di prima oppure cambiare quindi cambiando cambiano le ricompense ottenuti cambiano anche gli obiettivi individuali infatti ogni fazione avrà i suoi obiettivi i suoi obiettivi individuali specifici che ovviamente rispecchieranno la tipologia di ricompense della fazione stessa altra novità del mese di aprile è la nuova modalità dungeon che non si chiamerà più dungeon ma si chiamerà incursioni allora ho visto un po di anteprime c'è una live stream di brian grant e legacy che provano insieme con il team kabam in call le nuove incursioni e devo dire che sembrano veramente molto molto interessanti vi posso anticipare che da quello che ho visto hanno veramente stravolto molto la meccanica e sembra essere molto più divertente interessante ci sono più stanze nelle varie stanze oltre i soliti nodi cross da togliere per facilitare la vita al proprio compagno ci sono potenziamenti boost abilità particolari che possiamo aggiungere ai nostri ai nostri campioni e anche le ricompense sono decisamente migliorate se si riesce a spingersi molto avanti e arrivare a stanze molto in alto si ottengono ricompense molto interessanti la difficoltà ovviamente va scalando come al solito però sicuramente la premessa è quella che queste nuove incursioni saranno molto meno noiose molto più coinvolgenti quindi sproneranno molti più giocatori a provare questa modalità di coppia che aggiunge sicuramente un po di freschezza al gioco per quanto riguarda la risoluzione di bug e migliorie allora risolto il problema con l'avversario che rispondeva più lentamente del solito alla conclusione di la combo effettuata da ghost rider ron in solato l'inverno torcia umana simbio supremo guillotine star lord praticamente questa era una sorta di bug dove alla fine della combo c'era una risposta un po più lenta e quindi il timing anche delle parate alla fine della combo ne risentiva dovrebbero avere fixato questa cosa in più risolto problema che alcuni campioni subivano una breve pausa tra due o più attacchi pesanti consecutivi quindi si impiantavano risolto un problema con l'avversario che poteva attaccare mentre al tappeto questa cosa se non ho capito male riguarda un bug che mi è capitato di vedere che praticamente dopo il ko gli avversari si muovevano ancora ma non ho capito se era questo oppure se effettivamente colpivano una volta una volta messi al tappeto che non mi è mai capitato sinceramente poi chiarita la descrizione del dominio di sperazione per indicare che il limite è pari al 100 per cento che quindi non si può andare oltre risolto un problema con ant man capitano america infinity war e il buff protettore di particelle per cui la precisionabilità delle abilità di viazione si riduceva di oltre il 100 per cento invece adesso l'hanno rimessa a massimo 100 per cento chiarita la descrizione in abisso di egon per quanto riguarda potenziamento abissale per indicare che bypassa l'immunità alla riduzione della precisionabilità è ok annailus tutti i colpi della speciale 2 ora si comportano come previsto ovvero sono proiettili energetici black panther civil war chiarito che black panther civil war purificherà qualunque debuff applicato insieme all'effetto stordimento quando consumerà il buff armatura più quindi riflette lo stordimento e purifica tutti gli altri buff cable chiarito che l'abilità degenerazione di cable viene attivata le debuff sanguinamento quindi probabilmente non era specificato bene nella scheda gran maestro di 6.4 quindi modificata la schermata pausa per chiarire qual è il bersaglio dei comandi invertiti come il gran maestro diventa inarrestabile quando viene ammesso al tappeto vicino a una parete donna invisibile risolto il problema con l'effetto visivo scudo che non compariva durante i combattimenti contro la cosa killmong risolto il problema che a volte questo mi è capitato l'ultimo colpo della speciale 2 poteva essere bloccato era come se durante la combo 2 della special 2 di killmong durante l'animazione ci fosse un po troppo di letra il penultimo colpo e l'ultimo colpo in modo che gli avversari potessero bloccare l'ultimo colpo invece in questo gioco una delle regole base che l'attacco speciale non può essere interrotto quindi hanno fissato questa cosa mojo chiarita la descrizione della sinergia in comune con psylocke in modo da indicare il debuff blocco potere tempesta modificata l'abilità passiva per chiarire che riduce l'efficacia degli effetti shock sunspot risolto un problema che con l'ultimo colpo della speciale 2 a volte non entrava in contatto con l'avversario praticamente lo mancava visione archius come ultimo fix risolto un problema con l'ondata di freddo che non cresceva non scalava in relazione alla furia bene ora spostiamoci sul forum inglese per andare un attimino più nel dettaglio e vedere le ricompense di ciascuna delle due fazioni per l'evento individuale questo potrebbe esservi utile da capire prima per decidere con chi schierarsi poi vi dirò anche le mie opinioni qui caban mike dice praticamente le stesse cose che ci sono sul forum italiano ovvero fight for your side scegli il tuo il tuo lato il fatto che il 15 aprile si possa cambiare fazione gli obiettivi individuali e ora arriviamo alle ricompense allora per quanto riguarda worshipers of apocalypse e quindi quello la fazione di storm di tempesta per quanto riguarda questi reward sono da intendersi di due settimane quindi la montare che vedete è relativo a due settimane di evento ovvero per master e epico con tempesta si ottengono 11.000 schegge di cristallo 4 stelle 40 pietre evolutive 4 stelle 5.000 schegge 5 stelle e per epico che quindi è l'ultima difficoltà 1.000 6 stelle 11.000 5 stelle e 20 pietre evolutive 5 stelle quindi se deciderete alla fine delle prime due settimane di rimanere ancora con apocalypse quindi con tempesta questi li dovrete raddoppiare otterrete quindi per quanto riguarda epico 2.000 schegge 6 stelle in tutto 22.000 schegge 5 stelle 40 pietre evolutive così come per tutte le altre difficoltà per quanto riguarda invece la followers dell'antico quindi di sorcerer supreme abbiamo che sono i materiali invece relativi appunto a rangare gli eroi e non schegge che sono molto molto interessanti ora vi spiego perché per master abbiamo sempre per due settimane 100 catalizzi frammenti di catalizzatore classe 96.000 frammenti di catalizzatore base 4 12 alfa 1 12 alfa 1 30 iso classe da 2000 e per epico abbiamo 108.000 frammenti di catalizzatore 4 basico 72.000 frammenti di alfa 2 9.000 frammenti di cata 5 base 30 iso classe da 5000 2 gemme rank up per 5 stelle da 1 a 2 si presuppone che queste siano generiche lo spero tanto allora qual è il punto secondo me la fazione di storm quella che contiene come reward le schegge è più adatta a giocatori che sono più in progressione un pochino più indietro che hanno ancora bisogno di cercare tanti eroi da aggiungere al loro roster e quindi questo vi dà insieme alle solite schegge dell'evento mensile eccetera la possibilità di ottenere parecchie schegge per quanto mi riguarda e per quanto penso debba riguardare magari giocatori che sono un po più avanti queste risorse per rangare sono molto molto utili perché sono le risorse un pochino più basse che anche se si completano eventi come atto 6 labirinto mancano sempre ovvero soprattutto gli alfa 1 soprattutto i cata un po più bassi cata 4 bisogna spendere gloria per prenderli e quindi la possibilità di avere questi due rank up da 1 a 2 che comunque garantiscono di non usare risorse come alfa 1 cata 3 eccetera eccetera e in più un totale se stiamo tutte le quattro settimane in questo evento un totale di 24 alfa 1 interi più tutti i frammenti vari vi garantisce la possibilità di poter rangare quei pg che avete a rango 1 che magari potreste portare a rango 5 perché avete gli alfa 2 avete i cata 5 avete i rank up ma i primi livelli da 1 a 2 da 2 a 3 da 3 a 4 vi consumano un sacco di risorse più piccole che si fanno fatica ad ottenere o sono molto noiose quindi io personalmente andrò sicuramente per due settimane con l'antico quindi con queste risorse di rank up e poi vediamo dopo le due settimane ma molto probabilmente farò l'intero mese con con sorse del suprime l'antico per mettermi in tasca nell'inventare tutte queste belle risorse per rangare e essere a posto per un po l'ultima chicca ancora non molto specificata è questa los mercs for gold ovvero ci sono dei rumor che praticamente detto in termini normali perché qui è sotto forma di battuta sotto forma di lore del game dovrebbe in teoria nel mese di aprile poppare fuori arrivare anche un evento oro non si sa ancora se sarà l'evento gold pool non sarà ancora che tipologia di evento ma di base dovrebbe essere un evento che garantirà una bella scorta d'oro quindi se lo aggiungiamo a l'evento individuale a fazioni che è molto interessante a prescindere da quello che si sceglierà di fare con chi ci sceglierà di schierarsi avere oro più tutte le risorse che dà il solito evento incollezionabile eccetera eccetera devo dire che di base questo evento mensile sembra veramente veramente interessante un po più movimentato del precedente soprattutto perché ci saranno anche le incursioni che daranno appunto un po più di linfa e un po più di voglia di fare eventi nuovi non noiosissimi come quello dell'uomo talpa per quanto pagasse bene quindi super super gasato per il prossimo mese per il prossimo evento che ormai arriva domani mi raccomando sarò in live appena inizierà l'evento per farlo insieme a voi farvi vedere come funziona come saranno i nuovi pg eccetera eccetera anche il livello di difficoltà che avrà che si spera si attesti sui normali mesi incollezionabili quindi seguitemi anche lì bene ragazzi grazie mille di essere stati con me in questo video un po esplicativo in cui volevo fare una panoramica e farvi vedere cosa ci attenderà per il prossimo mese in game spero vi sia stato utile mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi campanella per le notifiche condividete anche nella vostra alleanza che potrebbe essere utile ad altri e ovviamente come al solito amici parenti cani gatti e cincilla ci vediamo domani sera live vale 19 per l'inizio insieme dell'evento incollezionabile prossimo mese una buona giornata a tutti ciao